Carenza idrica a Modica, il quartiere Sorda è messo a dura prova da disservizi continui. Da un lato il consorzio di bonifica sottolinea come ci siano difficoltà perché il comune di Modica non paga. Dall'altro questo è un'accusa, il consorzio. I carabinieri di Catania hanno arrestato un uomo affiliato al Can Santa Paola e la sua compagna. L'accusa è di traffico internazionale di armi. In particolare l'uomo comprava pistole e mitragliatrici dall'Europa per portarli in Sicilia. Ragusa è la seconda provincia per la raccolta differenziata, la prima è Trapani. In un momento storico così difficile per i rifiuti è arrivato il momento di collaborare per sensibilizzare la raccolta differenziata. Sull'argomento interviene l'assessore regionale Contrafatto. Sono 97 posti destinati ai volontari da impiegare in progetti per il servizio civile nazionale. La diocese Iblea ha infatti proposto 6 progetti rivolte ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Ancora buon pomeriggio e bentrovati. Purtroppo si torna a parlare ancora di carenza idrica modica specialmente al quartiere Sorda. Questa volta appunto i disservizi continui allo scorso mese di aprile sussistono tutt'oggi nell'erogazione dell'acqua pubblica. Ma di chi è la responsabilità? Da un lato c'è il consorzio di bonifica che nonostante depuri le acque della diga di Santa Rosalia e le eroghi al comune. Dall'altra parte c'è invece l'ufficio idrico di Palazzo San Domenica che scarica l'origine delle cause e dei disservizi proprio al consorzio. Allora facciamo il punto in questo servizio. L'acqua è un bene prezioso del quale non se ne può fare a meno. A Modica, dopo i problemi idrici al quartiere San Paolo, si ritorna a parlare di carenza idrica. Questa volta il quartiere interessato è quello della Sorda, dove dallo scorso mese di aprile ci sono continui disservizi nell'erogazione dell'acqua pubblica. Le zone maggiormente colpite sono la Rocciola Scrofani, la via Trapani-Rocciola e la via San Giuliano. I residenti si sono rivolti alla nostra redazione per lamentare il continuo disagio che ormai si trascina da mesi e che vede soprattutto la sera la totale assenza di acqua nelle case. L'acqua che eroga il comune viene fornita dal consorzio di bonifica. Il consorzio prende l'acqua dalla diga di Santa Rosalia, viene depurata e pronta per essere erogata nelle case dei Modicani. Da qualche mese però questo avviene in modo discontinuo con un flusso minore rispetto a prima. Contattato da noi il dirigente dell'ufficio idrico ci ha spiegato che verrebbero a mancare infatti circa 6 litri di acqua al secondo. La rete idrica comunale viene aperta a giorni alterni e mentre prima l'acqua che arrivava nelle cisterne dei condomini bastava per coprire le 48 ore, adesso non si arriva nemmeno a garantire le 24 ore. Ecco perché le famiglie sono costrette a chiamare le autobotti dell'azienda convenzionata con il comune. Ogni viaggio al comune di Modica verrebbe a costare circa 55 euro. Il dirigente dell'ufficio idrico, Giorgio Scollo, attribuisce la responsabilità di questo disservizio al consorzio di bonifica. Secondo Scollo la responsabilità sarebbe del consorzio in quanto non avrebbe personale sufficiente per potabilizzare l'acqua e dunque non verrebbe assicurata la continuità dell'apertura del pozzetto che garantisce di conseguenza il fabbisogno giornaliero del prezioso liquido nelle case dei modicani. Versione diversa invece arriva dal consorzio di bonifica. Il dirigente, Giovanni Cosentini, parla di mancati pagamenti da parte del comune di Modica. Noi non giangiamo niente col pubblico servizio, noi abbiamo un contatto privato col comune, gli eroghiamo acqua che noi produciamo, il comune dovrebbe pagarcela, prendersi l'acqua, poi quello che ne fa a livello di erogazione e come garantisce il servizio è un problema, non ha una esclusività, cioè il comune non può sostenere che può servire le zone solide e esclusivamente con l'acqua del consorzio. Questo è un problema che appartiene al comune e alla sua programmazione della sua rete idrica. Il comune preleva tantissima acqua da noi e la eroga all'utenza, l'utenza paga le bollette idriche al comune, il comune non ci paga l'acqua, certo questo c'è una disfunzione che vorremmo capire meglio, ma soprattutto vorremmo risolvere in maniera positiva per il consorzio, nel senso di recuperare le somme. Il consorzio esprita un servizio, il servizio specialmente quello dell'impianto di potabilizzazione, è un servizio a pareggio, non è come la irrigazione, io tanto incasso e tanto devo spendere e quindi non posso avere disavanzi in questo senso, quindi ci sta creando grossi problemi e è una situazione che dovremo necessariamente risolvere, vuoi con l'intervento del prefetto, vuoi con l'intervento dell'assessorato, ma ci sarà un momento in cui bisogna mettere punto fermo perché noi saremo costretti a chiudere questa erogazione per evitare che si continui ad aumentare il debito e noi ad aumentare la possibilità di chiudere l'impianto. C'è la cronaca, la squadra mobile ha fermato un equipaggio di 5 scafisti per lo sbarco di 223 migranti è venuto proprio ieri intorno alle 10.30 al porto di Pozzallo e sono partiti dall'Egitto e avevano tra l'altro anche convinto i passeggeri a raccontare alla polizia che il timone era stato bloccato con delle cime e che gli scafisti, impostata la rotta, erano fuggiti. Sentiamo. Gli scafisti hanno minacciato i migranti costringendoli a raccontare il falso per non farsi arrestare e questo è il dettaglio che ha caratterizzato l'ultimo sbarco a Pozzallo di ieri mattina alle 10.30. I migranti sono stati costretti a dichiarare alle forze dell'ordine che gli scafisti erano tornati indietro a bordo di una piccola lancia, non prima di aver legato con una cime il timone, impostando la rotta verso l'Italia. Invece gli scafisti, tutti egiziani, erano nascosti tra gli immigrati. Sono stati condotti in carcere un 49enne, un 55enne, un 44enne e due 18enni. Uno di loro era già sbarcato in Sicilia pochi mesi fa ed era stato respinto. Alcuni degli immigrati hanno obbedito ai capi dell'imbarcazione, ma qualcun altro ha deciso di dire la verità. Facendo identificare gli scafisti, i migranti hanno raccontato che il capitano, dopo aver chiamato i soccorsi, ha legato il timone e spento i motori, poi si è messo insieme con gli altri passeggeri fingendosi uno di loro e lo stesso ha ordinato agli altri membri dell'equipaggio. Dopo ore e ore di lavoro, i migranti hanno indicato gli scafisti, raccontando di aver pagato 2.500 dollari circa ciascuno. Quindi agli organizzatori sono andati oltre mezzo milione di dollari. Il gruppo di 223 migranti è stato soccorso dalla nave della Capitaneria di Porto Fiorillo. 80 sono minori non accompagnati e quasi 20 hanno meno di 14 anni. Provengono dalla Siria, Somania, dal Sud e dall'Egitto. In questo sbarco non si sono registrati casi di salute preoccupanti. Gli migranti poi sono stati ospirati all'hot spot di Pozzalo per essere visitati, identificati e trasferiti in altri centri. Nel 2016 all'hot spot di Pozzalo hanno già fatto ingresso 6.837 migranti in occasione di 19 sbarchi. Salgono a 68 gli scafisti fermati nel 2016, di cui 19 minori nel 2015 sono stati 147. I carabinieri di Catania hanno arrestato un uomo affiliato al clan Santa Paola e la sua compagna per traffico internazionale di armi. In particolare l'uomo comprava pistole e mitragliatrici con relativi munizionamenti in vari paesi europei e lì smerciava in Sicilia passando per Malta. Da Catania per noi il servizio di Sara Donzuso. Carmelo Piacente, classe 1965, esponente di spicco, il clan mafioso Ceusi collegato all'organizzazione Costa Nostra Catanese Santa Paola Ercolano e la sua convivente Simona Puccia, classe 1985, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania per traffico internazionale di armi da guerra. L'attività investigativa coordinata alla locale direzione distrettuale antimafia scaturisce da un non sequestro di armi effettuato nel giugno del 2015 dal personale del nucleo investigativo presso gli uffici di smistamento e la ditta spedizione TNT dove veniva rintracciato un pacco contenente due mitragliette ed una pistola con il relativo munizionamento. Nelle prime investigazioni militari avevano accertato che la spedizione era stata effettuata alla Piacente Carmelo che si rendeva immediatamente irriperibili. Sin dalle prime fasi è l'indagine emerso che il soggetto aveva organizzato un vero e proprio traffico di armi acquistate nella Repubblica Slovacca che successivamente venivano spedite a Malta per poi essere velocemente mandate in Nordrafica. Difatti, con la cooperazione di Europollo, giorno 23 giugno 2015, la polizia francese durante un controllo presso l'aeroporto di Merignenne in Francia ha rinvenuto tre pistole di una mitragliatrice occultata all'interno di un pacco spedito proprio dalla Piacente Carmelo dal capoluogo Ettenneo con destinazione Malta. Il giorno 12 settembre 2015 Carmelo Piacente, al termine di un breve periodo di reperibilità, è stato tratto in arresto in una località Cidrezza in esecuzione del provvedimento di fermo. Successivi accertamenti, delegati dall'autorità giudiziaria di Catania, hanno consentito di documentare che Carmelo Piacente, unitamente alla sua convivente Simona Puccia, aveva acquistato da una ditta con sede in Slovacchia oltre 163 armi da guerre comuni da sparo disattivate, ma comunque non commerciabili in Italia, per un importo di circa 45 mila euro. Continua la protesta dei lavoratori e consorzio di bonifica di Ragusa. Dopo lo stop di ieri e anche l'annuncio di una nuova mobilitazione per il 21 giugno, a partire da oggi gli operatori sono in assemblea permanente. Sentiamo Carmela Minardo. Nessuna intenzione di mollare, anzi, continua la protesta dei lavoratori del consorzio di bonifica. Dopo lo stop di ieri e l'annuncio di una giornata di mobilitazione per il prossimo 21 giugno, da oggi gli operatori sono in assemblea permanente nei vari consorzi e continueranno sino a quando non riceveranno risposte adeguate alla loro piattaforma rivendicativa. Le traversie per i dipendenti degli enti regionali sono tutt'altro che vicine ad una soluzione. In Sicilia è in atto da tempo una mobilitazione che ieri ha avuto il suo apice con lo sciopero regionale, accompagnato da presidi in tutti i luoghi di lavoro e davanti alle prefetture. L'adesione è stata altissima anche a Ragusa e, come vediamo dalle immagini, la mobilitazione va avanti. I sindacati Fai Cisle, Flai CGL e Filbe Will regionali chiedono anzitutto la riforma del comparto, sottolineando che nessuno dei cinque assessori all'agricoltura fin qui nominate dal presidente della regione Crocetta abbia dato seguito alla riforma attraverso i decreti attuativi. In primi si viene chiesta l'abrogazione dell'articolo 47 della legge 9 del 2015 che ha tagliato i fondi destinati al personale, con il conseguente aggravio dei ruoli di contribuenza per gli agricoltori. L'impegno è iniziare una progettualità a difesa del territorio regionale dal rischio idrogeologico con l'utilizzo dei lavoratori delle garanzie occupazionali oltre il limite previsto. Altri capitoli importanti della piattaforma sindacale sono il pagamento degli stipendi arretrati e la necessità di trovare una soluzione per i lavoratori stagionali, ad oggi mai affrontata, che riguarda la stabilizzazione. A preoccupare anche gli annunci dell'assessore all'agricoltura Cracolici, che nei giorni scorsi ha parlato di una riforma che sarà attuata entro la fine dell'anno con il passaggio da 11 a due consorsi e avranno una gestione diretta degli agricoltori. E parliamo adesso dei contratti di locazione negli istituti scolastici superiori di Modica, in particolar modo parliamo del liceo artistico, perché il sindaco Ignazio Abate ha ufficializzato la volontà da parte del commissario Cartabellotta di prorogare il contratto della sede ex Gensal. La notizia però non viene confermata dallo stesso Cartabellotta, che ha detto di aspettare invece l'incontro di venerdì. Facciamo il punto nel servizio di Marco Scavino. Ancora non è stata trovata una soluzione per la collocazione degli studenti del liceo artistico di Modica. Il sindaco Ignazio Abate aveva ufficializzato al dirigente scolastico Sergio Carruba che il commissario straordinario del libero consorzio di Ragusa, Dario Cartabellotta, avrebbe prorogato di un anno il contratto. Dunque, per l'anno prossimo, secondo quanto avrebbero concertato Cartabellotta e Abate, la Gensal sarebbe rimasta a disposizione degli alunni. Contattato da noi telefonicamente però, il commissario Cartabellotta non ha confermato la notizia ed ha anzi evidenziato come sia necessario oramai aspettare l'incontro di venerdì. Io confermo la notizia che la settimana prossima sarà organizzato un incontro specifico sull'argomento che si terrà alla provincia e cercheremo di prendere le migliori soluzioni per l'arvio del prossimo anno scolastico. Voi avete valutato di acquistare la sede ex Carpentieri ed ex Gensal? C'è un programma di razionalizzazione delle sedi scolastiche che gli uffici stanno mettendo a punto. Anche questo sarà oggetto dell'incontro la settimana prossima, dopodiché ufficializzeremo tutte le decisioni presi. Intanto si è registrata una pioggia di interventi sul caso del liceo artistico di Modica. Se da una parte la senetrice del PD, Venera Padua, ha informato e sensibilizzato sul tema il sottosegretario Faraone e sta avviando un confronto con l'assessore regionale alla pubblica istruzione Bruno Marziano, dall'altra, nel pomeriggio di ieri, il consigliere comunale di area popolare a Modica Tato Cavallino ha inviato una lettera aperta al sindaco Abate. La nota era una vera e propria esortazione nei confronti del sindaco a spendersi in prima linea per garantire il prosieguo dell'attività scolastica dell'indirizzo. Cavallino ha messo in risalto come le attuali strutture, ex Gensal ed ex Carpentieri, siano idonee e rispondano a tutte le esigenze degli studenti e che sarebbe uno scippo la chiusura dell'indirizzo. Le strutture sono state convertite alle esigenze degli studenti dell'Istituto Galilei Campailla e indirizzo artistico venti anni fa e sono state realizzate delle aule apposite, molto più grandi rispetto agli standard, per consentire di collocare all'interno le attrezzature per i laboratori d'arte. Ora però, nella nota del consigliere Cavallino e del sindaco Abate, si parla di chiusura del liceo artistico. Questa informazione è da ritenersi infondata e non veritiera e a sottolinearlo è anche il dirigente scolastico dell'Istituto Galilei Campailla, Sergio Carruba, che sottolinea che non si è mai detto né ipotizzato che l'indirizzo artistico debba o possa chiudere. Il problema è per gli affitti e dunque per la struttura. Se per l'ex gensal il contratto di locazione verrà rescissa a partire dall'anno 2016-2017, per la sede Carpentieri il provvedimento prenderà vita a partire dal 2017. Lotta ai furbetti che si fingono invalidi per farsi accompagnare all'interno del cimitero di Ragusa, Ibla, con la navetta messa a disposizione dal Comune. Giro di vite da parte del sindaco Federico Piccitto, che ha messo in vigore un nuovo regolamento contro i falsi invalidi. Vediamo. Un invalido al 75%, Claudi Cante, con tanto di stampelle munito di tessera per invalidi, ieri è arrivato al cimitero di Ragusa, Ibla, ha comprato un mazzo di fiori e ha chiesto la fruizione della navetta per essere accompagnato all'interno del viale per raggiungere il palazzo della polizia dove riposano il padre e la madre. Ma l'ha detto si è rifiutato perché il richiedente non aveva con sé l'autorizzazione rilasciata dall'ASP7. Dunque, al diversamente abile, non è rimasto altro che tornarsene a casa senza la possibilità di poter portare un fiore sulla tomba dei suoi cari. Gli è stato detto che deve farsi esaminare dall'ASP chiedendo una visita collegiale. Superata questa, deve andare al Comune a richiedere l'autorizzazione e quanto tempo passerà prima di poter tornare al cimitero in attesa che arrivi la nuova autorizzazione? L'Ufficio dei Servizi Cimiteriali del Comune ha risposto una settimana perché è che già in possesso della documentazione di invalidità rilasciata dall'ASP non deve più farsi esaminare da un'altra commissione ma deve solo esibire la fotocopia dell'originale, la richiesta compilata per usufruire del servizio navetta, tre fototessere nel caso la richiesta sia per un solo cimitero, quattro per due e cinque fototessere per tutti i cimiteri. Il nuovo regolamento è stato emanato perché usufruivano del servizio anche i falsi invalidi che in realtà non ne aveva bisogno. Erano i furbetti che esibivano il certificato rilasciato dal medico curante e che permetteva loro di avere agevolazioni che non ispettavano. La nuova istanza può essere presentata scaricando il modello B che è trovato sul sito del Comune in formato PDF. Il servizio di accompagnamento è previsto nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 10.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30, domenica dalle 10 alle 12.30. Il Comune è anche informato che non verranno rilasciate autorizzazioni su presentazione di certificazione medica rilasciata dal proprio medico curante. Per le patologie che prevedono la deambulazione non autosufficiente si può prevedere il rilascio di accesso con l'autovettura privata da richiedere su apposita e specifica modulistica da ritirare all'ufficio servizi cemiteriali. L'inosservanza delle presenti disposizioni implicherà la revoca del provvedimento sul sito del Comune. Sono specificati i dettagli che noi vi abbiamo voluto fornire in maniera generale per evitare di arrivare al cimitero e non poter fruire del servizio. Questa è una recente disposizione dell'amministrazione a 5 Stelle contro i falsi invalidi. In un momento in cui aumentano i furti negli appartamenti riassalti ai portavalori e le rapine in uffici senza tralasciare il crescente allarme dettato dalle minacce terroristiche occorre intervenire con sofisticati nuovi mezzi di controllo per la sicurezza che possono essere di supporto a sistemi imponenti come quello aeroportuale. Questo è il tema di un confronto che si è svolto proprio questa mattina a Catania. Vediamo. Importante appuntamento questa mattina a Catania con l'Hub delle tecnologie incentrato sulla convergenza tra safety e sicurezza fisica, logica e organizzativa. Nello specifico stamattina si è parlato di sicurezza aeroportuale, videosorveglianze e privacy, modelli di integrazione tra Stati europei e comunità musulmana, fibra ottica, PSIM, controllo accessi con testimonianze e best practice su safety e security, un modello appunto di integrazione. Ma ci sono stati anche approfondimenti sul ruolo strategico della formazione del settore della sicurezza e le prospettive future di semplificazione e regolamentazione. Spazio poi al networking e alle demo live da parte delle aziende per una convergenza tra tecnologie, soluzioni, sistemi e processi. Possiamo sentirli sicuri se prima c'è stata un'analisi, se prima c'è stato uno studio molto sistemico e molto contagio manageriale, quindi con delle soluzioni anche tecnologiche appropriate. Che tecnologie allora utilizzare per rendere questi vostri ancora più sicuri? Le tecnologie oggigiorno fanno miracoli e sono moltissime. Partiamo da una videoanalisi intelligente che è in grado di non solo vedere ma anche capire se c'è il pericolo e dov'è il pericolo e quindi poi con tutta una serie di algoritmi si possono dare delle soluzioni, quindi tempestive in tempo reale. Dunque i dati parlano chiaro, nei furti nelle abitazioni in costante aumento agli assalte portavalori sulle strade, nei problemi legati ai flussi migratori a quelli del terrorismo, dai cyberattacchi alle morti sul lavoro. Molte sempre di più le sfide alle quali siamo chiamati a far fronte ma per dare risposte valide si deve sempre partire dall'analisi del rischio che deve essere affrontato in modo scientifico e manageriale perché solo con una corretta cultura della prevenzione si potrà arrivare ad una fattiva cultura della sicurezza che non può prescindere dalla convergenza tra i sefeti e sicurezza fisica, logica e organizzativa. Un terzo di tutti i lavoratori mondiali possono essere sostituiti dai robot. Ecco che bisogna non ostacolare la tecnologia e il progresso ma considerare l'uomo al centro del cambiamento per essere pronti in modo proattivo ad affrontare le sfide future. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria tra poco Una fattiva collaborazione da parte anzitutto dei comuni che hanno la responsabilità di aumentare sensibilmente la raccolta differenziata e di riscontrare la tassa sui rifiuti va in questo senso l'eco incentivo approvato dall'Ars e quanto riferito dall'assessore regionale energia Vani ha contrafatto intanto proprio Raguta si piazza a livello regionale come seconda provincia dopo Trapani per la raccolta differenziata vediamo Anni anni di scelte sconsiderate è questa la chiave di lettura dell'assessore all'energia Vani ha contrafatto sul caos rifiuti in tutta la Sicilia dopo la chiusura di tutte le discariche dell'isola per la scadenza delle proroghe che consentivano l'utilizzo dei siti non ancora a norma la tanta attesa proroga però comunque è arrivata dal ministero fino a novembre riaprono dunque i cancelli nel sinacusano allentino e nel catanese Motto Sant'Anastasia rimane chiusa Siculiana Cava dei Modicani Ragusa continuerà ad essere operativa fino al 31 gennaio 2017 ma la regione dovrà tuttavia cambiare il modello di gestione dei rifiuti a dare intanto un'indicazione ai comuni è l'assessore contrafatto che punta sulla raccolta differenziata l'ordinanza sui rifiuti cerca finalmente di porre le basi per una reale soluzione dei problemi che riguardano la Sicilia e i siciliani in questa fase così delicata sarebbe auspicabile ha detto un'affattiva collaborazione da parte anzitutto dei comuni che hanno la responsabilità di aumentare sensibilmente la raccolta differenziata di riscuotere la tassa sui rifiuti va in questo senso l'eco-incentivo approvato dall'Arsa tocca ai sindaci non scaricare sui cittadini il costo delle proprie inefficienze ha continuato e tra i capoluoghi di provincia fa meglio di tutti Trapani con il 21,2% di differenziata seguita da Ragusa con il 17,2% in territorio ebleo però Accateferma allo 0,4% e Chiara Montegulfi allo 0,6% la terza provincia Grigento con il 14,4% tutti gli altri sono sotto la doppia cifra la peggiore è Siracusa con il 4,7% Messina e Denna sono a quota 7,6% Caltanissetta all'8% Palerma all'8,3% e Catania al 9,3% ben 52% in Sicilia sono i comuni che non arrivano all'1% di raccolta differenziata il più virtuoso è tra i 390% l'Ico di Eubea nel Catanese con il 69,6% mentre 10% i comuni sono a quota zero tutti nel Messinese e quanto emerge dall'ordinanza su rifiuti firmata dal presidente della regione siciliana Rosario Crocetta ieri dopo il via libera del ministero per l'ambiente che ha autorizzato la proroga di 6 mesi delle discariche in regola Sanzioni pari a 600 euro di contravvenzione sono state combinate ieri dalla polizia locale di Modica che ha individuato un cittadino che ha abbandonato rifiuti nell'area ASI Modica Pozzallo in particolare sono stati individuati due cumuli di rifiuti provenienti da un istituto scolastico ed una serie di corrispondenze di un cittadino privato i controlli saranno intensificati a Raguda sono stati complessivamente 97 posti destinati ai volontari da impiegare in progetti per il servizio civile nazionale e la diocese Iblea ha infatti proposto 6 progetti rivolti e giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni sentiamo di cosa si tratta saranno 97 ragazzi da impiegare nei differenti progetti di servizio civile nazionale proposti dalla fondazione San Giovanni Battista e dalla Caritas di Ragusa sono stati infatti pubblicati il 30 maggio scorso i bandi 2016 i dettagli sono stati presentati stamane nel corso di un incontro con i giornalisti che si è tenuto alla diocesi di Ragusa alla presenza del presidente della fondazione San Giovanni Battista Tonino Solarino e della Caritas Domenico Leggio la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 14 del 30 giugno prossimo si tratta di progetti che vanno dall'accoglienza ai migranti all'attenzione verso i piccoli passando per la custodia dei beni culturali la fondazione San Giovanni Battista propone tre progetti per un totale di 62 posti disponibili passo passo maravan e tra culto e cultura altrettanti progetti proposti dalla Caritas diocesana per un totale di 35 posti alla di riserva Ragusa Argento Vivo Alveare sono già attive le fasi di preselezione ovvero di presentazione delle domande tutte le informazioni possono essere reperite sul sito della fondazione www.fsgb.it così come tutta la documentazione prevista per la presentazione della domanda può essere scaricata dal sito è anche attivo in via Carducci numero 218 un infopoint della fondazione San Giovanni Battista per fornire informazione per raccogliere le domande per chi vuole opta per la presentazione della domanda in maniera cartacea i giovani interessati potranno inoltre partecipare ad uno dei due incontri informativi che si terranno martedì 14 giugno a Vittoria e martedì 21 giugno a Ragusa è importante che i giovani si informino bene prima di presentare domanda perché questa è anche una chance in più in fase di selezione tra l'altro il servizio civile è un impegno importante di 30 ore a settimana quindi i giovani devono affrontarlo con la giusta consapevolezza l'appuntamento è in due date una nella città di Vittoria e una a Ragusa a Vittoria ci vedremo il 14 giugno martedì prossimo alle ore 9 e fino insomma circa alle 11 presso il saloncino della parrocchia Sacro Cuore in via Brescia a 12 invece a Ragusa ci vedremo il martedì successivo il 21 alle ore 15 qui in Vescovado e Rosanna Pandolfi la nuova segretaria del circolo John Fitzgerald Kennedy del partito democratico di Ispica succede a Giovanni Tringali che ha rassegnato il mandato per impegni professionali che lo porteranno fuori dalla Sicilia Pandolfi già vice di Tringali è stata eletta nel segno della continuità verrà affiancata da un esecutivo composto da Roberto Luca vice segretario Pietro Caruso riconfermato tesoriere e da Gianni Stornello consigliere comunale e capogruppo del PD a Palazzo Bruno seconda riconferma in casa passa l'acqua a spedizioni dopo quella di Gaia Gorini e Giulie Vallò anche Chiara Consolini continuerà a vestire la casacca bianco-verde nella prossima stagione la forte guardia ex Umbertides Chio si prepara dunque per il secondo anno consecutivo a rappresentare uno dei punti fermi in seno allo scacchiere di coach Gianni Lambruschi portando la propria esperienza e personalità e continuano le celebrazioni in onore della Beata Maria Schinina Ragusa alle 16.30 incontro per la vita consacrata guidato da padre Renato dell'Acqua sul tema carisma della Beata Maria Schinina e ruolo dei consacrati in ambito educativo XII congresso regionale Sinfer a Comis il convegno rivolto a medici e operatori del settore della riabilitazione si svolge alla Villa Orchidea la riabilitazione fra falsi miti e realtà proposte e risposte e questo è il tema affrontato durante sarà il tema affrontato durante il convegno e vuole evidenziare la realtà attuale la riabilitazione oggi in Sicilia che sconta un ritardo culturale e organizzativo ed è questa l'ultima notizia grazie ancora per averci seguiti buon proseguimento grazie a tutti